Volevo soltanto ricordare che questo è l'inizio di un novembre, speriamo caldo. Noi come scuola, come Copa Scuola, abbiamo anche aderito alla manifestazione del 24. È una manifestazione nazionale, una manifestazione che vede assieme per la prima volta dopo tantissimi anni tutti i sindacati. Bene, tutti hanno fatto un passo indietro, abbiamo raggiunto un'unità su alcuni punti fondamentali. Quello degli investimenti alla scuola pubblica, quello del ritiro del provvedimento delle 24 ore, che non è ancora certo. Nel senso che è stato ritirato, la Commissione Cultura ha fatto un emendamento, ma in questi giorni sarà la Camera e il 24 e il 25 sarà il Senato a votare definitivamente le leggi di stabilità. E quindi dobbiamo stare molto attenti, bisogna tenere alta la tensione, perché se hanno ritirato, come noi speriamo, se ritireranno questo provvedimento è anche grazie alla mobilitazione degli insegnanti di questi giorni. Quindi dobbiamo tenere altissime la tensione. Bisogna andare a Roma, noi da domani lavoreremo per andare in tanti a Roma. Ci sarà la Cigelle, ci sarà la Cisle, ci sarà la Guille, ci sarà lo Snazzi, ci saremo noi come Copas, ci saranno tutti. Penso che sia una giornata fondamentale per la scuola italiana. Ma per questo bisogna andare anche in tanti, perché dovremmo anche pressare, non solo il governo, come diceva Nardo, ma dovremmo pressare anche questi sindacati che oggi dicono no alle misure contro il governo Monti, ma ieri hanno detto sì alle misure dei governi loro amici, del governo Berlusconi prima, del governo Prodi ancora prima. Quindi da questo punto di vista noi saremo in piazza a Roma il 24 perché vogliamo tenere alta la tensione anche nei confronti di coloro che poi andranno a firmare i contratti. E la paura che abbiamo è che le 24 ore, per esempio, saranno messe per contratto. Noi questo dobbiamo evitare. Dobbiamo evitare che chi rappresenta i famosi sindacati rappresentativi, i lavoratori della scuola, non firmino quello che i lavoratori, tutta la gente della scuola ha rifiutato in questo momento. Quindi dobbiamo stare sempre attenti, cioè dobbiamo lavorare nelle scuole, dobbiamo dire ai colleghi che non è cambiato nulla al momento, che c'è la legge di stabilità che dovrà essere ancora votata alla Camera e anche al Senato. E poi c'è da ricordare, come diceva Nardo, è vero, noi abbiamo il blocco, c'è la questione delle 24 ore, ma non è l'unico problema. Il problema fondamentale è che secondo me è anche il blocco degli scatti di anzianità, il blocco dei contratti. Noi non abbiamo un contratto scaduto dal 2009, abbiamo il blocco degli scatti di anzianità, abbiamo la legge Aprea alle porte. Quindi da questo punto di vista penso che debba questa giornata assegnare l'inizio di una lunga fase di lotte per bloccare questo governo, ma non solo questo governo, perché ricordo a tutti che questo governo è un governo tecnico ed è sostenuto dai due maggiori partiti che ad aprile andranno ad affrontarsi per una competizione elettorale che è già farsa, perché se tutti questi partiti oggi firmano e sono d'accordo con il governo Monti lo saranno anche domani quando saranno votati dal popolo, chi andrà a votare, non lo so. E quindi dobbiamo stare molto attenti da questo punto di vista. Centrodestra e centrosinistra in questo momento hanno la stessa identica politica. Non cambia assolutamente nulla, perché centrodestra e centrosinistra hanno votato tutto quello che Monti ha a loro chiesto. Quindi da questo punto di vista tenere alta la tensione e fare in modo che i lavoratori, tutti i lavoratori, i lavoratori della scuola assieme agli studenti, i precari, tutti i lavoratori, e le fabbriche che stanno chiudendo, siano uniti, perché l'unico modo che abbiamo è quello di stare uniti. Per questo abbiamo affrontato anche Turandocinnaso, vi assicuro, e saremo a Roma il 24 assieme agli altri sindacati. Vi invito chiaramente a partecipare, sarà un'importante manifestazione, e speriamo di portare un milione di gente in piazza, che dica no a Monti, ma che dica no a tutte le politiche che rappresenta Monti e che rappresentano i governi di centrodestra, di centrosinistra e di alcuni sindacati che saranno in piazza quel giorno. Grazie.